La next gen è rete, vitale, intensa, direi team perché è crescita, unione, innovazione e divertimento, gruppo, libertà, per me la next gen summer school è stata classe, valore, apertura, arricchimento, direi certezza, crescita. Allora, dall'esperienza alla next gen porta a casa un enorme bagaglio, sia di sicurezza, sia di divertimento, di collaborazione insieme agli altri, un agglomerato di cose, non so nemmeno come definirlo, però è tutto molto, così tanto confuso, ma così tanto bello che non saprei nemmeno come spiegarlo. La next gen per me rappresenta un'opportunità unica perché è un percorso formativo troppo diverso da tutto quello che ho trovato sia nell'Argentina che qui. Come siamo un gruppo piccolo di 15 persone, questo permette agli insegnanti di trasmettere il loro conoscimento, conoscenze, permette di trasmettere le loro conoscenze in modo diverso, molto più didattico e personalizzato. Quindi è veramente qualcosa che apprezzo molto di quello. Allora, la next gen credo che ha mirato appieno quello che era l'obiettivo che mi ero prefissato, cioè io volevo trovare un qualcosa che mi preparasse al meglio per il mondo del lavoro, che mi desse delle nozioni appunto esperenziali, di professori, di altri esperti e credo che da questo punto di vista abbia centrato appieno quello che era il mio desiderio. Quindi da questo punto di vista mi sono trovato molto bene proprio per questo. Non dico di essere subito pronto per il mondo del lavoro, però il primo passo credo di averlo fatto. Next Gen ha significato per me non solo la diversità, io vengo dall'Argentina, anche l'intercambio con diversità non solo culturali, se no anche di diversi approcci e mi porto non solo conoscenze, se no anche nuovi amici. Della Next Gen Summer School mi restano i legami con i ragazzi con cui ho condiviso questa esperienza, la conoscenza che mi è stata trasferita dai docenti e dai professionisti e la rete che è riuscita a tessere la fondazione, unendo noi ragazzi con tutte le aziende che hanno partecipato a questo progetto. Della Next Gen Summer School mi resterà sicuramente l'ambiente che ho trovato, che mi ha stupito particolarmente. Qui ho trovato un mondo, le persone, il gruppo, i ragazzi, i docenti, sono state tutte persone che hanno arricchito giorno per giorno l'esperienza, donandoci parte di loro stessi. Io penso che un grande grande pregio della Next Gen è mettiti sempre al confronto con ciò che ti fa pure da un certo punto di vista, anche quei piccoli obiettivi, quelle piccole difficoltà, quei piccoli ostacoli. Da questa esperienza sicuramente porterò a casa le persone con la quale l'ho condivisa. Porterò non solo le conoscenze che ho appreso da un punto di vista pratico, ma le emozioni, i discorsi fatti a tavola, la condivisione di pezzi di storia degli altri, ma che allo stesso tempo erano degli altri, ma erano anche mie. Quindi tutto quello che è l'emozione, che ha accompagnato tutto quanto il mio percorso. Nella Next Gen Summer School mi resterà sicuramente il gruppo di ragazzi che ho incontrato, un gruppo che si è dimostrato affiatato sin dal primo incontro, e sicuramente anche l'approccio pratico, che per me è totalmente nuovo. Io ho studiato giurisprudenza all'università, quindi non avevo mai fatto workshop, lavori di gruppo, invece questa esperienza mi ha insegnato tanto sotto questo punto di vista. Da questa esperienza porto a casa sicuramente i miei compagni, anzi vorrei proprio portarmeli tutti perché sono stati i migliori compagni di viaggio possibili, e anche tutto quello che ho imparato in ogni singolo giorno, da ogni singolo esperto, soprattutto la consapevolezza che c'è tanto ancora da imparare e che sono solo all'inizio. Da questa esperienza sicuramente mi porto consapevolezza, la consapevolezza che era appunto quello che mi ero prefissato a inizio corso, volevo appunto capire a che punto ero del mio percorso, cosa volevo, cosa voglio fare. E effettivamente mediante questo percorso ho cominciato a schiarirmi quelle che sono le mie idee, ho cominciato a capire effettivamente cosa voglio fare, dove voglio andare a parare possiamo dire. E quindi sono molto contento perché appunto quello che volevo mi è stato dato. La Summer School per me è stata sicuramente una grossa opportunità, innanzitutto per conoscere meglio me stesso, per conoscere meglio le mie passioni e per capire meglio cos'è che voglio fare da qui in avanti. E in secondo luogo è stato sicuramente un momento per conoscere persone e anche professori ed esperti altamente qualificati, altamente stimolanti. Quindi ciò che mi resta è il valore umano di questa esperienza innanzitutto. Allora, di sicuro porto a casa un nuovo modo di pensare. Penso che appunto sia stata un'esperienza così innovativa che in un certo modo apre la mente e penso sia importante nel settore in cui voglio lavorare, avere appunto una mente aperta. e cosa ha significato per me la NextGen? Sicuramente è un posto in cui trovare persone che la pensano allo stesso modo di me. Con tutte le relazioni poi che sono riuscita a creare sicuramente è stata una bella esperienza. Allora, per me la NextGen è stata un'esperienza fantastica. Mi ha dato l'opportunità non solo di riscoprire degli argomenti che avevo solamente sentito nominare durante il corso, durante gli anni universitari, ma ho capito fosse importante sapere nel dettaglio, soprattutto metterli in pratica. Porto a casa anche la possibilità di riscoprire me stessa perché ho avuto molte occasioni dove ho dovuto sperimentare, affrontare nuove sfide e mettermi in gioco. e riscoprire quella parte di me che comunque ho sempre tenuto da parte e bloccato. Per me la NextGen Summer School è stata un'esperienza assolutamente positiva in termini sia a livello culturale, con tutte le conoscenze, le nozioni apprese, ma anche a livello umano con il rapporto che abbiamo avuto con i miei colleghi, con i membri della fondazione stessa, i mentor, i docenti. sono rimasta assolutamente molto soddisfatta anche del rapporto che si è creato che spero che possa continuare anche successivamente dopo la fine. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!